Ciao, siamo Danone e Fabio D'Innocenzo e siamo virtualmente con il pensiero a Bucharest, questa bellissima l'assegna organizzata da Mario Sessi che potrebbe essere un grande professionista e anche un amico ed è per questo che gli spiacerevano essere realmente lì con voi sentendo i respiri e l'aria che tira ci rende abbastanza dispiaciuti. Siamo in questa stanza dove stiamo lavorando alla nostra serie, questo è il motivo per la quale non siamo con voi, ci ho detto sta per iniziare America Latina, un film alla quale impegniamo moltissimo, spero che avrete modo di sentirlo e che vivarli e che vi faccia parlare o quantomeno pensare alla fine di esso. Tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì, è un film molto dolce che ci ricorda come l'amore non sia un bene elitario che sia destinato solo a pochi eletti e alle persone giuste ma anche a quelle sbagliate, che grazie a questo sentimento queste persone che forse non rientrano nella categoria dei buoni possono in qualche modo redimersi e arrivare a una luce che in questo momento è più che necessaria. Quindi, come diceva Damiano, è dispiacere tanto per non esserci, i nostri film sono molto personali quindi in qualche modo ci siamo attraverso il film e buona visione. Grazie mille!